Se sei tanto intelligente, perché non sei il presidente di una banca? Io sono... troppo intelligente. Scusami? Riempila! Getta la pistola! Questa è la mia occasione. Devo tentare la fortuna e la fortuna è collegata alla felicità. È scritto nell'etica di Aristotele. Regola numero uno. Non devi cambiare assolutamente nulla. Sono finito su un sito di escort. Aspasia. Non devi più vederla. No, no, io devo ripeterla. Polizia di Montreal. Ho detto loro che è una mia amica. Questo è il segno di amicizia? È il mio alibi. Lei è generoso. È bello. Io invece sono egoista. Nessuno è perfetto. Commetterò questo crimine, ma non devono esserci vittime. Porca miseria. Volete aprire un centro sociale? Per caso. Signor Tashro, sarebbe giusto dire che lei è esperto di paradisi fiscali. Purtroppo non esistono paradisi sulla terra. Fermo, non muoverti. Metti le mani in vista. Difendete una società che è indifendibile. Credere unicamente nel denaro. È questo che ha distrutto gli Stati Uniti. Diversamente da quanto dicono, i soldi danno la felicità. Ma lei non potrà mai comprenderlo sfortunatamente.